Siamo adesso alla pagina dello sport, ci sono importanti novità che arrivano dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con i nuovi criteri per ottenere la licenza nazionale e dunque iscriversi ai campionati della prossima stagione. Vediamo quali sono queste regole che sono decisamente più flessibili rispetto agli anni passati in questo servizio di Francesco Triolo. 31 maggio è questo il primo termine perentorio a cui le società di Serie C devono fare riferimento per la procedura di iscrizione al prossimo campionato. La prima scadenza tra nove giorni quindi è quanto contenuto nelle disposizioni approvate dal Consiglio federale pubblicate oggi per l'ottenimento della licenza federale senza la quale non è possibile ottenere il diritto a partecipare alla prossima Serie C. Oltre tutta la documentazione sui contratti dei calciatori ed il pagamento dei relativi trasferimenti bisognerà presentare alla Covizoc, l'organo di controllo della FIGC, anche tutta la documentazione sugli adempimenti economici finanziari. Un aspetto questo che preoccupava moltissime società alle prese con passivi importanti dovuti all'emergenza Covid e qui, passaggio importante forse decisivo in chiave futura anche per il Catania, il Consiglio federale ha voluto tendere una mano alle società. Il tanto temuto indicatore di patrimonializzazione sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo non dovrà tenere conto delle perdite dovute all'emergenza sanitaria come indicato nella legge 178 del 2020, la legge di bilancio. Questo significa che per il Catania potrebbe essere necessario un esborso di circa 2 milioni di euro per rientrare nei parametri e non di 4 milioni di euro come paventato inizialmente. La Covizoc avrà tempo sino al 16 giugno per valutare le istanze ed eventualmente contestarle, mentre le società potranno integrare la documentazione entro il 28 giugno.